buongiorno oggi abbiamo fatto una piccola spesa al desparte allora cominciamo con bertolini lievito bertolini ce n'è quattro guste e costa un euro e 79 centesimi poi c'è la farina barilla eccola qua zero zero per buona per tutte le cose in euro e 45 molto costosa non avevo neanche visto il prezzo poi c'è mozzarella alborea ce ne sono 300 grammi suddivise in 100 grammi l'uno e mozzarella di fiori di latte e costa 3 euro e 50 metri poi ci sono due banane due banane e sono 350 grammi qui non dice quanto sono il chilo al chilo 169 peso netto 350 grammi 59 centesimi poi ci sono due pesche molto belle queste due peschine si eccole qua mi ammenta quelle che c'erano allo stazio di mio padre e di mia madre si si sono quella razza di pesche che veramente vengono in settembre noi in giugno vengono questi allora il chilogrammi sono 3 e 99 non è che siano un buon prezzo peso netto 365 grammi totale un euro e 46 centesimi poi nelle golden mele golden che sono al chilo al chilogrammi 1 e 99 non sono molto e possono andare peso netto 805 grammi e sono nel totale un euro e 64 delle mele della melinda quindi sono buoni sì cosa ma ci facciamo la torta aspetta aspetta uova dei forni 1 e 99 sono molto cari questi perché in un altro posto ho visto due euro e sono anche a due torre ma stamattina non mi andavo ad andare lì pazienza allora questi uovi dei forni abbiamo detto 6 1 e 99 dalle montagne di forni da capirai allora latte intero d'arborea un latte intero molto buono 1 euro e 79 poi due limoni al chilogrammi 2 euro e 69 peso 280 grammi nel totale 75 centesimi poi pomodori a grappolo pomodori a grappolo ci voleva di camminare a prenderli in un altro posto almeno non mi andava al chilogrammi 2 e 29 peso netto 525 grammi totale 1 euro e 20 e questa è la spesa di oggi complessivamente 16 euro virgola 26 6 centesimi a posto tanto tutto questo lo metterò nell'info box in modo che buongiorno a tutti una buona estate buongiorno ciao le vacanze ragazze ciao ciao lo mette in frigo si aspetta un attimo che c'è stato poco no